Ehi, 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 ehi Ehi, 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 ehi Ehi, 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 ehi Questo qui c'è Oscar Il McLeon C'è un flaco che cammina a 430 km per l'aria Ehi, ehi, ehi Reazione tra elettroni negativi ed elettroni positivi Che è appunto il magneto Regolando la carica positiva e negativa, con le due calamite che si attraggono e si respingono, questo treno si alza e fa una velocità a più normale. Ma che cazzo sta il viso? Grazie per la visione! Grazie per la visione! This is a warning! Fe go de cap. It's a man dema de sweet man. Di so efficace a terrorist. What the thing he know here youre bl�z up the district. This is a law is clean, the people on sin столько it hempi. A man never di bad rap. Amagi get some man di brappin. Otherwise the malak be black there di next strip. And when the malik demus is so fascinating Bill leggo deban, this is a chillin and still get the target. Proُ써 anche le mondiali Bricka entrante Bricka entrante Per gli mondiali Pertiglia Per gli mandati Per e non subito болi Talenti Écrano Pulti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti